Al momento attuale, siamo al 24 settembre, non si individuano soluzioni e prospettive future per il riavvio della linea 1 della raffineria Eni di Gela. Gli impegni che il colosso industriale ha concordato in sede ministeriale non sono stati mantenuti. A distanza di mesi dall'apertura della vertenza tutto è rimasto com'era. E la fotografia è scattata dalla segreteria territoriale della Wiltec, macro area sud-est della Sicilia, durante l'incontro che si è svolto a Gela per discutere delle problematiche politiche sindacali ed in particolar modo accendendo i fari sulla vicenda Eni. C'è forte preoccupazione da parte dell'Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energie e Chimica sul piano industriale presentato dai vertici del cane a sé zampe. Durante l'incontro è emersa la volontà di continuare a mantenere la centralità del tavolo nazionale e del confronto ministeriale come strumento di garanzia per una proficua conduzione della vertenza. Bisogna evitare, dice la Wiltec, la polverizzazione delle problematiche con singole discussioni territoriali perché in ballo c'è il futuro della raffinazione e della chimica italiana. La segreteria territoriale ritiene strategico ed attuale il piano di investimenti sia sulla raffineria di Gela sia sul petrolchimico di Priolo perché consentirebbe di migliorare la competitività di quelle fabbriche in quanto verrebbero aggredite fette di mercato che consentono ancora di produrre profitti. Nel corso della riunione si è parlato anche dello stabilimento Versalis di Ragusa. In questo caso occorre, dice la Wiltec, un piano di investimenti per aumentare la produzione di politene considerato che è rimasto l'unico nel meridione d'Italia. Per quanto riguarda invece l'articolo 18, la segreteria territoriale ritiene che occorre intervenire sul mercato del lavoro per creare nuove opportunità occupazionali e non per mettere in discussione diritti legittimi acquisiti dai lavoratori.